Altre funzionari statunitensi sono in visita a Taiwan, appena 12 giorni dopo il dibattuto viaggio della speaker della camera Nancy Pelosi. La delegazione che comprende 5 uomini arriva nel mezzo di continue tensioni militari con la Cina, quest'ultima che rivendica l'autogoverno di Taiwan come proprio territorio ha tenuto importanti manovre militari in prossimità dell'isola proprio al fine di esprimere dissenso per la visita di Nancy Pelosi a Taipei.